Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dì. Sì che ieri è morto il mese di novembre, la viglia, come si usava nelle volte, io avevo 6 anni e sono andato a dormire la mia nonna per fare compagnia, e la viglia di Santa Lucia gli ho detto, nonna, io non ti vengo a Santa Lucia, sale e vera frutta, mi ha dato 30 francs, vai in bottega, c'è i che smentuti che ti piace a te, che stai a rondi, e verdi con la crociata e tal mie ciochiolto. Va bene, tal domanda di binore sul barcone, ho chiamato Santa Lucia, ho avuto qui che ieri e non gli ho vignode più. Il figlio di me neanche, che l'era già grandotto, gli ha detto a Sommari, mamma io sai chi tu sei tu, ma vieni a Santa Lucia che stanno. Buone giornate e buone vite.